L'abbigliamento del pokerista fa parte sicuramente della strategia di gioco e allora andiamo a vedere come i nostri player scelgono il loro look prima del torneo A caso, quello che capita capita La prima volta che ho giocato, dovevo fare un torneo a brosco, era giacca e cravatta e da lì c'è giacca e cravatta, primo giorno sicuro Io sinceramente rifletto molto poco, quindi dovrebbe essere qualche pokerista femmina Vai di rombo? Io vado di rombo, sì, esatto Allora, prima ero molto scaramantico, cioè c'era il rischio che non mi cambiava le mutande per dieci giorni No, non è vero, scherzo Prima? Prima, infatti qua ho visto che non andava benissimo e alla fine, niente, sono diventato scaramantico zero Però l'unica cosa che ho fatto terzo un mese fa lì a Armini in Pitti quindi c'avevo questa, l'unica cosa che mi sono riportato è la sciarpa I giochi d'estate ancora con la sciarpa? Sempre Cerco di adeguare me all'ambiente dove sono Tra Venezia è un casino ad un certo prestigio, io sono qua di piccino e quindi questo è l'abbigliamento giusto Perché vado con questa felpa oggi? Perché diciamo riporta lo stile americano per cui mi sento un po' anche io americano nel poker E come disse Coco Chanel, la moda passa, ma lo stile resta